Penso ai giorni in cui è facile sognare. Penso ai colori che, quando sono insieme, è facile farla emozionare. Ripenso a quel gioco, dove tutto deve essere perfetto. Ripenso all'attesa, e a quante cose riesci a farti scoprire. La libertà di seguire i propri sogni con coraggio ed emozione. Formes, l'istinto naturale, per insegnare ai grandi.